Siamo contentissimi all'ottava edizione dell'Imperium Plug Festival, grazie al sostegno del Comune, della Regione, della Patrocina della Provincia e soprattutto dall'aiuto del CIV e di Confessercenti che ci aiutano in questa avventura. Due giornate bellissime, la prima il 10 di agosto in Piazza San Giovanni, con il nostro palco aperto dalle 7 alle 9, quindi che è libero a tutti per venire a suonare, noi mettiamo a posto gli strumenti e la gente può venire a proporre le sue canzoni, a suonare cover e noi gli offriamo anche la cena se vengono a proporci la loro musica. Poi nella serata ci sarà Daniele De Gregori e Valente, che sono due artisti giovani emergenti, già conosciuti comunque anche, che hanno già suonato, partecipato a trasmissioni in Rai e poi la serata successiva, quella dell'11, dove abbiamo l'ospite Irene Grandi e con l'apertura di Roberta Giallo, che è un'altra artista emergente. È uno sforzo importante, ma come associazione, e lo ricordo noi siamo no profit, ci impegniamo a far vivere la città di Impera portando artisti e anche quest'anno siamo riusciti e speriamo che sia due giornate bellissime. Ci sono già tanti iscritti al palco aperto? Al momento abbiamo alcune partecipazioni, stiamo vedendo un po' di fare una specie di scaletta e dovrebbero esserci anche artisti di musica classica che ci hanno contattato, qualcuno che vuole fare musica sua rock. Insomma c'è un po' di tutto, quindi speriamo di concretizzare. Grazie. 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 Grazie.